Caricamento Posizionamento Posizionamento E' una battuta Mamma mia ho paura Uno Due Tre No 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 vai 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 Ciao a tutti E' lei Sofì e benvenuti in un nuovo daily vlog Un video come i vecchi tempi ovvero noi due qui fermi dietro un tavolo Ma soprattutto una sfida E che sfida Ultimamente ci capita spesso di leggere dei messaggi in cui ci chiedete delle sfide in maniera classica un po' alla vecchia maniera Così oggi abbiamo deciso di accontentarvi e abbiamo qui per voi La macchina della distruzione di panna al mondo E' stata una delle nostre primissime sfide Vi ha fatto divertire tantissimo E noi ci siamo divertiti un po' meno E finalmente hanno arrivato la nuova versione che ovviamente siamo per andare a provare insieme Se vi ricordate la prima era composta solamente da una faccia quindi una alla volta dovevamo girare una manovella E si scopriva che si beccava la panna in faccia Queste volte invece saremo in due contemporaneamente Mamma mia Vi spieghiamo in sintesi come è composto Ci sono queste due Paccine appunto che avete visto Noi dovremo andare a mettere il nostro volto qui E poi ci sono due pulsanti Che servono per far spostare la manina Che verrà ricoperta di panna Guardate Oh oh Sofì avresti però la panna in faccia Aiuto Metti un'ansia terrificante Perché avere la panna in faccia Non è proprio una bella cosa La panna ti rilascia quell'odore di latte Che difficilmente si toglie Ma a proposito di panna direi che è giunto il momento di fare entrare l'ospite di oggi Quindi diamo il benvenuto alla panna Panna montata super buona assaggiamola Ho sbagliato qualcosa Io non li ho È già caduta Nooo Com'è? È buonissima Eh sì da mangiare è veramente buona Per mettere in faccia un po' meno Lui non ti abbuffare Non è questa la sfida Giusto E pulisciti sei già tutto sporco ancora prima di iniziare la sfida Ovviamente abbiamo qui con noi una montagna di tovaglioli Perché credeteci ci serviranno Comunque se ancora non l'avete fatto dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale Per entrare a far parte del team pro E vi basterà cliccare il tasto iscriviti E adesso possiamo iniziare con la sfida Quindi armiamo la macchina della distruzione No lui Mi raccomando mi raccomando come primo round mettine poca Basta basta No no Ma è tantissima Mamma mia Posizioniamo la faccia Metto i capelli indietro Perché ragazzi No non posso Non è più elastico Come devo fare? Anch'io li devo mettere indietro Ok Adesso va bene Posizioniamo la faccia Vai car Giovanna ci sei? Ciao sei la mia vicina di gioco Ciao tu sei il mio rivale di gioco Uh Al mio 3 Iniziamo a premere il bottone ok? Si 3 Ah 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 non me la devi spiaccicare in faccia e come ti toglie scusa devi pulire aspetta ti pulisco le mani così poi ti pulisci da sola allora se dovevi contare fino a tre hai barato hai barato no 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 adesso ti farò vedere io eh sei un baro cioè subito hai preso la manna in faccia ma non hai durato neanche un minuto la sfida perchè tu sei un baro poi mi sentiamo a premere veloce tu hai iniziato e hai premuto io tu 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 lo so com'hai premuto l'ho visto benissimo guarda aspetta togliamo tutto questo casino di tovaglioni e palla che schifo che schifo che schifo ok aspetta sono i fini di tovaglioni già li hai usati tutti mannaggia mannaggia vai te lo metti questa è la tua penitenza rieccoci pronti per una nuova sfida togliamo la mano dalla faccia di sopì Mi sto esercitando riempiamo la manina di nuovo di panna 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 guarda bella panna E' una manina messa così che si alza quindi immagina Ma sei impazzita mi vendicherò adesso farlo tornare la panna in faccia così impari Ho vinta con me Iniziamo stavolta lì agli inizi al 3 contato allora E' giusto non puoi fare di nuovo quello che ho fatto io O qualcuno qui ha beccato la panna in faccia Nooo Dai rispetto alla prima volta è pochissima solamente un pochettino nel naso sembri un clown Ma come fai a vincere qual è il tuo segreto? Questa macchina mette molta più ansa della prima Ma soprattutto hai provato di nuovo a tradirmi hai iniziato col 3 Dovevi contare 1 2 3 No ho detto 1 3 Ma non è giusto così Senti chi parla dice non è giusto così A parte che mi hai copiato togliamo questa pannaccia da qua via Riempiamo di nuovo di panna a tutto Uoooooo No ma questa è tantissima Sofì concentrazione non puoi perdere di nuovo Stavo per cadere Lui? Si? No 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 che stai facendo vai via Se sei veramente brava dovrei riuscire a buttarmi la panna in faccia con l'agilità Ma come faccio? Bisogna fare velocemente io non ho muscoli come i tuoi Ma tu non sei avvantaggiata perchè tu premi con la destra io invece con la sinistra Guarda ti voglio aiutare facciamo così Mettiamo la manina verso il mio lato Ok Ma è l'idea bravo Si no no bravo ok però devi probabilmente giocare Perchè lo faccio E' un cretino 1 2 3 Siiii In realtà non mi sono sporcato Non è possibile No ragazzi veramente parliamone La manina era troppo piena di panna e quindi non è riuscita a lanciarla Cioè per una volta che stavo per vincere Ero avvantaggiata tantissima panna E cade non ti va in faccia E vabbè sono un maestro di questo gioco Ma che fortuna hai Tantissima Mi sto nervosendo ancora di più Ricominciamo Lui io pusso di panna Sembro una capra E si sente anche dai Che puzza Vai capritta 1 2 3 Dai vabbè 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 Oh via questa pannaccia Ok voilà Via Ci ho sporcata anch'io la mano perchè qua tutto sporco E' stato un gioco dai ragazzi E' stato un gioco dai ragazzi Ti ho aiutato io a vincere Se non fosse stato per me che mettevo la manina un po' più verso il mio lato Non avresti vinto mai Intanto ho vinto Comunque siamo 2 a 2 Io direi che è tempo di fare l'ultimo round Per vedere chi è veramente il vincitore Ci sto Fatto di panna No no ha fatto di panna Yeah yeah mi 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 No perchè l'hai fatto Ci siamo musica epica Caricamento Posizionamento Posizionamento E' una battuta Mamma mia ho paura 1 2 3 Qualifiche No 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 vai ho messo il mio Vupli Aiuto aiuto sto staccando Si Ho vinto Sì Sì Ho puttiorna in vincita Ho vinto alla grande ihrem Cos'è da dire, io faccio il discorso da vincitrice, grazie, grazie a tutti per il supporto, è stato davvero molto semplice, all'inizio è un po' complicata, però poi alla fine ce l'ho fatta, avrò la mia rivincita, questa è una promessa, però intanto fuggiamo entrambi, mamma mia non si respira, ma comunque Team Prove, l'abbonato di oggi si conclude qua, noi passiamo a salutare l'abbonato di oggi che è Alessia Settembrini, ma devo un bacione a tutta il Team Prove, ci vediamo domani, ciao! Stai pulendo? Sì! Che bravo! Grazie!